Ciao, benvenuto o benvenuta all'interno del nostro canale YouTube. In questo canale troverai moltissimi video che ti aiuteranno a progettare e ottimizzare la tua azienda agricola e soprattutto ti aiuteranno ad applicare il sistema di marketing agricolo per vendere i tuoi prodotti al prezzo che meritano valorizzandoli sul mercato. Troverai infatti consigli sul mindset imprenditoriale per la crescita personale e la crescita del business. Ti faremo vedere il metodo biosinergico consapevole che ti permetterà di lavorare in modo sostenibile ottenendo un prodotto di altissima qualità e diminuendo quelle che sono le ore lavoro e la spesa all'interno della tua azienda. Troverai poi tantissimi consigli imprenditoriali con tutto il marketing applicato per andare a valorizzare poi i tuoi prodotti agricoli sul mercato. Per non perderti nulla di tutto questo, la prima cosa che devi fare naturalmente è iscriverti al canale. Noi siamo Valentina Ceretani e Alessandro De Luca, creatori del brand dello specialista dello zafferano con il quale vendiamo zafferano a ristoranti gourmet e di lusso e creatori del sistema di marketing agricolo. Siamo anche autori best seller del libro Marketing Agricolo che se ancora non l'hai fatto devi assolutamente prenderlo perché qualsiasi azienda agricola o comunque aspirante azienda agricola deve assolutamente averlo in casa. Sì assolutamente, ti lasciamo naturalmente il link in descrizione per acquistarlo subito perché in questo libro andiamo proprio a spiegare come vendere i tuoi prodotti agricoli ed avere successo come imprenditore unendo sostenibilità e marketing e questo anche se parti da zero, quindi sia se già hai un'azienda agricola che se non hai nessuna azienda agricola, non hai assolutamente niente puoi utilizzare gli strumenti che trovi in questo libro per progettare efficacemente la tua azienda. Noi siamo laureati io in Biologia e Ale in Psicologia e ci siamo formati da migliori formatori italiani e nonno. Ed Ecosystem BSC nasce proprio con un obiettivo ben preciso che è quello di aiutare gli aspiranti agricoltori e le aziende agricole a progettare efficacemente la propria azienda in modo tale da ottenere oppure aumentare i profitti economici attraverso proprio il sistema di marketing agricolo. Se ancora non sai cosa intendiamo quando parliamo di marketing agricolo non ti preoccupare alla fine di questo video, ti lasciamo la scheda per andare direttamente al video in cui spieghiamo lo schema del marketing agricolo. In poche parole, qualsiasi sia la coltivazione o le coltivazioni che vuoi fare o le coltivazioni che hai, noi possiamo aiutarti a capire come strutturare un sistema di marketing idoneo per andare a vendere questi prodotti sul mercato unendo tutto questo a un tipo di coltivazione sostenibile poiché ci basiamo su tutti gli studi derivanti da permacultura, organica generativa, biodinamica e via dicendo. Per aiutare quante più persone possibili a fare tutto questo abbiamo creato dei veri e propri programmi di formazione online. Abbiamo infatti studenti che vanno dalla Sicilia al Piemonte, quindi un po' in tutta Italia fondamentalmente e in questi programmi li aiutiamo a passare anche da zero ad avere un'azienda agricola perfettamente funzionante sotto ogni aspetto. Puoi trovare già nei nostri video, nei nostri siti, molte recensioni dei nostri clienti ai quali abbiamo fatto ottenere già risultati tangibili e pratici perché a noi ci piace la concretezza e la praticità delle cose. In descrizione ti lascio alcuni link, in base alle tue esigenze vedrai, potrai scaricare diversi video gratuiti che ti permetteranno di intanto formarti già da subito in modo totalmente gratuito e di capire anche come strutturiamo i nostri programmi di formazione. Quindi comincia anche tu questo percorso iscrivendoti al canale YouTube. Una volta che ti sei iscritto mi raccomando attiva anche la campanellina delle notifiche perché almeno ti arriverà una notifica ogni qual volta pubblicheremo un nuovo video. Noi all'incirca, mediamente, sì, due video a settimana pubblichiamo. Esatto. Quindi penso che ti abbiamo detto un po' tutto per presentarci. Ovviamente avrai modo di vedere tutto quello che vuoi all'interno del nostro canale. Ti auguriamo una buona permanenza e ti facciamo un grande saluto da Alessandro De Luca. Valentina Seretani. Ecosystem BSC coltiva la tua vita.